Mister Memo della Union Foscesia, oggi ritrovate i tre punti e la vittoria dopo un pari e un punto importante nella trasferta contro il Delfino Curi, ma parliamo di oggi. Wow, è stata una partita troppo importante. La temevo all'inizio perché sapevo, forse proprio per l'importanza della gara, e sapevo che giocavamo contro una squadra con grandi giocatori che magari stava attraversando un periodo di difficoltà, ma soprattutto solo di risultati. Quindi col cambio di allenatore sicuramente ha dato qualcosa in più all'ambiente, infatti si è visto oggi, loro hanno fatto veramente una grandissima partita. Ci hanno messo in difficoltà, soprattutto il primo tempo, dove noi magari non riuscivamo a gestire il possesso palla, poi abbiamo preso gol sul rigore, e poi il secondo tempo però veramente i ragazzi hanno messo cuore, grinta, tutto, volevamo proprio questa vittoria e l'abbiamo cercata fino alla fine e poi è venuto il gran gol di Facundo Fiorotto che ci ha dato i tre punti. A proposito di Facundo Fiorotto, come dice lei, un neoacquisto, non a caso, la squadra comunque ha giocato bene, ma è un caso che questo ragazzo abbia segnato il gol? No, non è un caso, perché è un ragazzo che sta con noi da tre mesi, si è allenato da tre mesi senza poter giocare, è fuori di casa, è argentino, quindi so che aveva grande voglia di fare questo esordio. Sono contento che l'ha deciso proprio lui, perché è un ragazzo che in questi tre mesi si è sempre impegnato, aspettava questo momento e oggi ci ha dato i tre punti che per noi sono importantissimi. Mister Marco Sansovini, neo-mister dell'Ortona, oggi abbiamo visto nonostante tutto una bella Ortona, poi c'è stato qualcosa che non è andata, quindi qual è la sua visione della partita? La mia visione della partita intanto è quella di un ottimo Ortona, soprattutto nel primo tempo e devo far solamente i complimenti ai ragazzi, veramente dal primo all'ultimo per tutto l'arco della partita, al di là del fatto che possiamo aver perso, però sono veramente contento della prestazione, quindi abbiamo lavorato da poco, c'è ancora tanto da lavorare, i ragazzi lo sanno, lo so anche io, perciò gli ho detto solo che dobbiamo stare sereni e riproporre delle prestazioni di questo tipo e sicuramente i punti arriveranno di conseguenza. Ho ascoltato infatti alcune interviste dove lei diceva che comunque bisogna conoscere ancora per lei meglio la squadra, ma la domanda che le voglio porgere è per quale motivo ha deciso di entrare in corsa in questo progetto dell'Ortona? Sappiamo bene che l'Ortona come obiettivo fondamentale ha quello della salvezza, quindi qual è stata la cosa che l'ha spinto ad approcciare appunto questo progetto? Intanto la mia voglia è di iniziare ad allenare una squadra di adulti dopo due anni di settore giovanile e la possibilità di farlo in questa piazza che è comunque a livello regionale importantissima e abbiamo una struttura bellissima, quindi io penso che Ortona, la società dell'Ortona abbia tutto per far bene e per continuare a crescere. Mi hanno dato questa opportunità e io le ringrazio tantissimo.